salve a tutti benvenuti in questo nuovo tutorial di pasticceria oggi abbiamo preparato la pasta d'arancio e i filetti d'arancio per utilizzarlo nei vari impasti nelle varie creme in questo caso noi abbiamo utilizzato le nostre scollate come vedete i cubetti di filetti d'arancio da noi fatti andiamo a vedere la nostra produzione grazie a tutti 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 per utilizzarlo nei vari impasti, nelle varie creme, in questo caso noi abbiamo utilizzato le nostre scollate, come vedete, cubetti di filetti d'arancio da noi fatti. Mi raccomando, per vedere la lavorazione completa, come usare la nostra pasta arancia e i nostri filetti d'arancio, andate a vedere il video delle ricce e frolle o il video della spogliariccia, che facciamo anche la spogliatella riccia, con all'interno i nostri cubetti e la pasta d'arancio naturale. Che dire, alla prossima ricetta. Un bacio a tutti.